ciao ragazzi visto che tanti chiedono e non sanno come fare abbassare il minimo adesso vi faccio vedere come si fa allora innanzitutto individuiamo il carburatore che è questo vedete che ci sono due viti ok una con la molla e una più all'interno senza molla quella del minimo è quella con la molla quindi andiamo ad agire su questa come un cacciavite mi raccomando lo fate 200 giri allora praticamente a motore caldo andiamo a fare la regolazione adesso l'ho abbassato un po perché era alto a motore caldo regolate a orecchio a orecchio sempre vedete se mi sembra ancora alto andiamo ancora a azire sentite come si abbassa notevolmente io sono ecco adesso troppo basso comunque la vite è questa quindi svitando si abbassa avvitando si alza alla prossima ragazzi grazie grazie Grazie.